Nella BAT urge una riprogrammazione delle liste d'attesa. A chiederlo è il segretario della CGL Viaggio d'Alberto. Il Covid ha rallentato notevolmente la risposta alla richiesta dei cittadini di prestazioni sanitarie come quelle ambulatoriali, di screening e di recovery. Di qui la sollecitazione del sindacato a riprogrammare il passato e a programmare bene presente e futuro. La problematica è semplice. Noi stiamo vivendo una fase davvero difficile e complicata nella quale dobbiamo provare a uscirne. E comunque la Regione ha provato a mettere a disposizione delle ASL, delle risorse. Ci sono ben 3 milioni disponibili per l'ASL-BT. L'ASL-BT è tenuta a programmare una serie di prestazioni che portano a questo territorio a fuoriuscire dalle difficoltà e comunque dalla condizione di tanti servizi che in qualche modo sono rimasti bloccati in questi mesi e quindi devono essere ripresi, recuperati e devono in qualche modo soddisfare il bisogno della cittadinanza. Alle prestazioni tradizionali deve aggiungersi una programmazione adeguata della campagna vaccinale. Nella programmazione del recupero delle liste d'attesa si aggiunge la programmazione delle vaccinazioni, cosa importante anche qui e delicata che nei tempi e nei modi in cui viene fatta può dare una spinta fondamentale rispetto alla fuoriuscita da questa fase e al tempo stesso dal recupero sia dei limiti esistenti nella pandemia ma anche per recuperare le criticità precedenti che comunque esistevano anche nella fase pre-Covid che vanno rimesse in moto perché comunque questo territorio non è che funzionava tantissimo prima. Queste risorse, queste chance e queste opportunità ci devono rimettere in moto in una direzione nella quale riusciamo a soddisfare i bisogni della cittadinanza.